La partenza delle classi 250 e 350 la partenza della classe 500 che ha visto trionfare tenni su guzzi alla media oraria di 163 km e 626 metri su 300 km di percorso. La partenza delle classi 250 e 300 km di percorso. La partenza delle classi 250 e 300 km di percorso.